cane con insufficienza renale che deve essere trattato con glucantime oppure terapia standard che induce insufficienza renale. Prendo spunto da un posto che ho letto stamattina sul gruppo. Cane a cui è stata diagnosticata la Leismania nel giugno duemilaventitré e che settembre ottobre duemilaventitré ha un ricovero d'urgenza per insufficienza renale. Cosa può essere successo? Valutiamo le due situazioni. Giugno a inizio della cura se l'ha finita vuol dire che il paziente non non aveva segni di insufficienza renale. A settembre ottobre fanno gli esami o viene ricoverato d'urgenza e scoprono che il paziente ha l'insufficienza renale. Premettiamo una cosa. In medicina umana dove la Leismania è molto più studiata della medicina veterinaria perché dovete sapere che la Leismania uccide duecentomila persone l'anno in tutto il mondo e ci sono circa un milione e mezzo di esseri umani contagiati ogni anno e la Leismania è molto studiata specialmente nei paesi cosiddetti del terzo mondo. Nessuno correla la Leismania all'insufficienza renale. Si è scoperto che in alcuni pazienti umani è presente insufficienza renale non perché la Leismania si mangia il rene ma perché lo stato di infiammazione cronica che il sistema immunitario mette in gioco quando l'essere umano ha quella forma devastante che si chiama Leismaniosi viscerale produce una proteina chiamata sostanza miloide che si va a depositare un po' dappertutto anche sui reni e i reni possono diventare insufficienti ma non è la prima causa di morte del paziente umano. La prima causa di morte del paziente umano è la setticemia cioè la dispersione batterica perché il sistema immunitario in crisi non si difende più dei batteri e il paziente muore per setticemia. Nel cane ormai la Leismania è storicamente associata all'insufficienza renale ma questo dato non è reale. perché vi dico che non è reale? Il nostro centro si occupa solo ed esclusivamente di Leismani o almeno quello che fa la maggior parte del tempo è occuparsi di pazienti che hanno la Leismania. Fate conto che noi mettiamo in terapia circa 100 pazienti al mese abbiamo in terapia 100 pazienti al mese ma facciamo consulenze per 6.000 pazienti l'anno e se la Leismania fosse veramente causa di insufficienza renale io su 6.000 pazienti che vedo dovrei vederne 5.000 con l'insufficienza renale e invece no. Su 6.000 pazienti l'anno che vediamo arriveremo a 100 pazienti che hanno l'insufficienza renale. E volete sapere un'altra cosa? La maggior parte di questi pazienti hanno l'insufficienza renale per un numero di motivi che sta dentro una mano. Utilizzo sconsiderato dell'allopurinolo. L'allopurinolo come spesso detto se non è associato a una dieta specifica iperidratante non a bassa burina ma iperidratante e il paziente non viene monitorato permette la mineralizzazione dei reni con dei cristalli di xantina. Se cominciate a dare allopurinolo avete finito la terapia nel 2020 come ho letto in una risposta di quel post è logico che in tre anni anche se fate delle interruzioni il rene mineralizza si riempie di calcoli e il paziente va in insufficienza renale per i calcoli non per la leismania e questa è la causa primaria dei pazienti che si rivolgono a noi per curare la leismania in insufficienza renale. Seconda causa pancreatiti subcliniche che si sono riattivati o in corso di terapia o autonomamente creano insufficienza renale. Terza causa infezione dei reni. Se c'è un'infezione renale magari ascendente dalla prostata dall'utero dalla vescica che arriva ai reni ti innesca insufficienza renale. Queste sono le tre cause xantina pancreativi infezioni renali. Abbiamo un numero di pazienti che hanno insufficienza renale ma noi non ne scopriamo la causa e allora facciamo finta che sia la leismania. Sempre vi ho detto che in umana della medicina umana non è considerata a causa di insufficienza renale la leismaniosi perché lo dovrebbe essere per i nostri cani ma va bene. È vero che spezziamo una lancia a chi sostiene questo se fate un carotaggio del rene nel paziente che ha la leismania trovate le leismani ma in qualunque organo fate un campionamento se il paziente ha la leismania trovate le leismani che abbia ora qui parliamo un po' tecnico cerco di farvela facile nel rene ci sono una serie di venuzze una serie di arteriole tutto quella rete vascolare che porta il sangue all'organo e ce ne arriva tantissimo fate conto che ogni pompata del cuore il venticinque per cento del sangue viene portato al rene il rene deve pulire il sangue regolare la pressione se con l'infiammazione cronica che dura mesi anni questi vasi sanguigni diventano meno elastici c'è una distruzione dovuta alla reazione infiammatoria questi vasi diventano più piccoli magari molti si chiudono e allora sì la leismania trascurata può essere una concausa dell'insufficienza renale ma vi dico sempre può essere perché noi prendiamo in terapia animali che sono stati con i pastori per mesi o anni hanno la leismania da mesi o anni e non hanno l'insufficienza renale quindi io quando mi portate un paziente con l'insufficienza renale la prima cosa che faccio è fargli fare tutti gli esami per capire se l'insufficienza renale non è data da altro mi riferisco a un commento che ha fatto un'amica al post dove la l'utente diceva ho il cane curato giugno ora con l'insufficienza renale e diceva io ho curato il paziente nel 2020 poi l'ho messo a cicli di allupurinolo scopro che ho i reni tutti calcificati si dice poi mineralizzati e l'ho dovuto operare in insufficienza renale acuta ora sta bene l'allupurinolo almeno per quello che stiamo facendo noi stiamo testando alcuni pazienti senza allupurinolo per capire se negativizzano ugualmente e negativizzano ora cosa abbiamo scoperto cosa stiamo scoprendo la prima cosa che abbiamo cercato di fare è capire se i pazienti possano negativizzare senza l'utilizzo del glucantime si può fare abbiamo scoperto che determinati pazienti non necessitano delle punture o dello sciroppo della milteposina ma all'interno di determinate cariche parassitarie possono negativizzare solo stimolando il sistema immunitario perché questo almeno dal punto di vista teorico se io ho un cane che nel tempo non ha permesso alle leismania di replicare in modo esagerato vuol dire che il suo sistema immunitario è ancora in grado in parte di contrastare l'infezione quindi se gli diamo un aiuto dall'esterno magari il sistema immunitario si sveglia e riesce in qualche modo a sopraffare la leismania e a negativizzare ogni tanto leggo il post grazie dottore abbiamo fatto la il trial sperimentale con l'immunoterapia e il cane si è negativizzato addirittura qualcuno lo scrive da solo ho fatto due cicli di amminopet anzi di eh immunopet e il cane ha negativizzato amminopet è l'integratore dei aminoacidi essenziali che stiamo studiando per l'insufficienza renale a questo punto succede senza la nostra guida e noi stiamo sperimentando a quali dosaggi perché siamo partiti addirittura da quattordici milligrammi per chilo di immunopet fino a duecento milligrammi per chilo per capire il range in cui questo accadeva e abbiamo cercato di dividerli in cariche parassitarie per capire in quale carica su quale carica parassitaria l'immunostimulazione funzionasse meglio sappiamo che superate certe cariche parassitarie il paziente negativizza prima col glucantime ma il glucantime si può usare in insufficienza renale vi dico di sì ma sempre perché stiamo studiando a quali dosaggi il farmaco non è troppo basso per non essere efficace e non è troppo alto per indurre insufficienza renale abbiamo scoperto che ci sono classi renali che vanno trattati con dosaggi differenti esperienza algoritmi matematici calcoli sulla sulla chimica urinaria ci hanno permesso di capire che dosaggi somministrare nel tempo perché perché il glucantime se lo utilizzate dosaggio standard 100 milligrammi per chilo viene filtrato in tre ore dal dal rene quando lo fate sotto cute cioè dopo tre ore nel sangue non ce n'è più ma se il rene filtra più lentamente invece di tre ci metterà quattro otto dieci magari dodici ore oggi non disponiamo della budget sufficiente per andare a controllare su questi pazienti la quantità di glucantime ma lo facciamo in modo indiretto cioè ci accorgiamo che se superi determinati dosaggi il farmaco si accumula perché il paziente va in intossicazione quindi abbiamo scoperto che a determinate rapporti di funzione renale corrispondono determinati dosaggi che impediscono che il paziente si intossi tanto è vero che da poco ho pubblicato un video di un paziente curato in quarto stato di insufficienza renale con glucantime ed è migliorato invece di peggiorato tutti i pazienti con insufficienza renale che fanno affidamento al centro per la cura della leismania a cui gli viene adattato un dosaggio quasi giornaliero non hanno il problema di essere in insufficienza renale e non poter essere curati con glucantime quindi ora per stringere il cerchio la terapia convenzionale ottima perché ci ha dato una linea guida perché negli anni ottanta non c'era ognuno faceva i dosaggi che voleva ai suoi limiti qual è il limite principale un dosaggio per tutti cento milligrammi chilo per ventotto giorno guarirà alcuni pazienti sicuramente sì non è guarirà altri né indossicherà altri l'altro problema della terapia standard è che non raggiungendo la negatività midollare e quindi mantenendo parassiti nel corpo del paziente ha bisogno di qualcosa per limitare nel tempo la recidiva questo qualcosa è l'allopurinolo ma l'allopurinolo dopo un annetto 2 vi mineralizza i reni quindi non va bene stiamo studiando per ribaltare questo concetto ci servono i numeri ci servono le prove non possiamo dire abbiamo scoperto il metodo e non avere sufficienti prove da poco abbiamo mandato alla revisione un articolo all'università di biologia di napoli che l'ha validato e ha detto che quello che abbiamo scoperto per quanto riguarda l'utilizzo del glucantime l'utilizzo degli immunoterapici può avere un valore significativo un valore statistico perché pazienti dello studio ci sono stati trenta pazienti che hanno fatto la terapia convenzionale e trenta pazienti che hanno fatto le terapie secondo le nostre regole i trenta pazienti della terapia convenzionale non hanno negativizzato il midollo i pazienti che hanno fatto la nostra terapia hanno raggiunto una stabilità immunitaria prima perché c'erano gli immunoregolatori e allo stesso tempo quelli nostri hanno potuto completare tutta la terapia fino a negativizzazione raggiungendo trenta su trenta la negatività midollare ora piccola parentesi sulla negatività midollare raggiungerla intanto è un traguardo importante perché con la terapia tradizionale rarissimamente si raggiunge seconda cosa quando tu raggiungi la negatività midollare ti puoi trovare in due situazioni la prima non ci sono più parassiti la lesmane non si presenta più secondo le lesmane sono poche non le puoi trovare ma se il continuo immunoregolare il paziente si pulirà da solo terza i parassiti ci sono non li trovi si ripresenteranno quali sono le percentuali che a cui assistiamo il 99 per cento dei pazienti raggiunge a sei mesi la negatività midollare sei mesi dopo una percentuale simile e ancora negativo alla pcr midollare abbiamo quelli che sei mesi dopo sono nuovamente positivi ma metti che ogni duecento pazienti ne abbiamo due pericola cinque quindi l'uno per c'è un po più dell'un per cento dei pazienti ha nuovamente la forma idrica facciamo una considerazione da quando raggiungiamo la negatività midollare a sei mesi dopo possono succedere due cose uno i parassiti c'erano non li abbiamo eliminati si sono ripresentati la seconda cosa che può succedere siamo in italia papadagio lo punge innesca l'infezione e tu la rivedi non riusciamo a distinguere oggi quello che succede e questo è il motivo per cui cinque anni dopo quando ricontrolliamo i pazienti il cinque per cento ha nuovamente l'infezione come faccio a sapere se cinque anni dopo era l'infezione precedente o si è rinfettato nuovamente in pensione al canile in corsica nel giardino perché poi quando facciamo la storia del paziente mi chiamano dottore sardiamo di nuovo il cane positivo naturalmente poche volte e cerchiamo di capire quello che è successo sì l'abbiamo lasciato in pensione in pineta sì ce lo siamo portati al bosco eh sì ultimamente è stato più da mia mamma in giardino quindi non riusciamo a capire quelle delle due forme vi posso dire la mia esperienza addirittura sui miei cani io la maggior parte dei cani che ho hanno avuto la leismania godono di ottima salute ora per esempio tango che avrà superato i dieci anni ormai me lo lasciarono in clinica perché aveva la leismania e non riuscivano a trattarla fa più di dieci anni che ce l'ho o se non ha più di dieci anni quasi ma se c'ha una leismania nel midollo mi interessa poco quel perché vive in zona endemica sta benissimo non è morto di terapia corre come un grillo nonostante sia tripode l'importante è non morire di allupurinolo non morire di glucantime quello è l'importante ora io questa risposta ve la metto giù io spero che la famiglia ci contatti cosa importante noi facciamo una sperimentazione privata costosissima per cercare di capire qual è la prospettiva nuova per la terapia oggi siamo dieci persone se considero Susanna siamo undici persone e la spesa che andiamo ogni giorno incontro per mantenere tutto il centro è molto elevata e ringrazio le famiglie che ci stanno aiutando in questo cosa fondamentale se volete aiutarci noi in cambio vi portiamo fino alla negatività midollare se volete aiutarci anche senza essere nostri pazienti vi lascio il link in descrizione cerchiamo di tirar fuori questi animali dalla malattia stiamo studiando una terapia orale per capire questa terapia orale sta negativizzando dei pazienti ma vogliamo capire in quali classi si può applicare perché non tutti riescono a fare le iniezioni vi mando un saluto alla prossima